Si vode il successo di questa musica. Adesso il maestro ci dà la prova della sua valentia nella polistrumentalità, polistrumentalismo, con uno strumento nobile d'antimo, l'inclusivo. Prego maestro, vuole le trette, professor Pacetino. Batta, batta, batta maestro, batta. Ah, è perfetto. La polca si chiama foia, che vuol dire a prova di fuoco. Prego maestro, che c'è? Che è successo? Una nulla. Un'impellenza? Ah no no, c'è tutto un trabagai. Posso cominciare intanto, dispiace? Prego. Mi può dare per questo? Scusate. Un attimo, scusate. E' bravo eh, è un ragazzo bravo. I benefici della 180, ecco di qua. Grazie. Prego. Ci siamo maestro? Posso fare? Vado? Procedo. A prova di fuoco. Io, Joseph Strauss, il fratello nobile della famiglia. Vai, vai, vai. Vai salito. Vai. Io, Joseph Strauss, il fratello nobile della famiglia. Io, Joseph Strauss, il fratello nobile della famiglia. Io, Joseph Strauss. Io, Joseph Strauss, il fratello nobile della famiglia. Benvenuti in un'impelle della famiglia. Qui siete? Va, io. Il fratello nobile della famiglia. Di commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.